Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Un legame solido e duraturo. Il rapporto tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi è saldo e resistente. Colleghe e amiche, le due celebrità della televisione italiana continuano a mantenere il loro sodalizio professionale e personale. Recentemente, un follower della famosa attrice romana ha messo in dubbio questo legame, chiedendo su Instagram se si fosse separata da Maria De Filippi, suggerendo un possibile allontanamento tra le due. Tuttavia, la risposta di Ferilli è stata pronta e decisa, respingendo l'ipotesi di separazione con una battuta scherzosa. Sabrina Ferilli è stata oggetto di alcune frecciate ultimamente, provenienti non solo dal pubblico, ma anche da alcuni colleghi. L'ultima è stata quella scherzosa di Luciana Littizzetto, che ha fatto riferimento alla conoscenza di un particolare fiore, le ipomee. La risposta della Ferilli è stata pronta e arguta, dimostrando il suo spirito vivace. In conclusione, quale piccola schermaglia, prima del ritorno sul piccolo schermo, preferite?